Bella a tutti ragazzuoli, prima che inizia il video vi voglio ricordare di iscrivervi al mio canale lasciare un bel pollicino in su e cliccare sulla cammarina per rimanere aggiornati sui miei prossimi video ora vi lascio al video, spero che vi piaccia e bella raga Bella a tutti ragazzuoli, sono tornato in un nuovissimo video di Ice the Horror Game di merda ecco ovviamente c'è sempre questa voce della verità però oggi è una giornata un po' diversa allora, noi abbiamo fatto una sfida dove in poche parole abbiamo deciso che se muore lui nella modalità normale solo una volta dovrà avere una punizione che inventeremo noi al momento vabbè, senza... se muori dovrai subire una punizione perché se no non è divertente, no? ovviamente che se muore, dopo vive, no? è troppo noioso, facciamo pure questa cosa va benissimo e lui è d'accordo ovvio allora, siamo in modalità normale quindi ce la dovresti fare infatti ah, siamo anche in compagnia di... pensate che i cinesi hanno quegli occhi... strabici esatto e siamo anche in compagnia di... una persona che respira e... no, di una persona che abbiamo preso in giro per caso è che sto mangiando una gomma no, sono nel piano, sono nel piano, eh, prima di andartene ad esempio sono nel piano scusa, eh ah, è tradizione tradizione è tradizione è tradizione basta suonare il cam 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 cam, non cam cam allora bella cucina molto ordinata, ecco, perfetto, sta arrivando, così ti uccides dovrai subire la punizione, yeah io spero di non morire invece no oh, manco un occhio, c'è, oh manco un occhio sono più ciecati sono andata, sta... brava donna se è in modalità normale ce la dovresti fare oh, qua di solito c'era sempre un occhio, sempre mai che c'è però questa è in modalità normale, magari ce n'è solo uno, dai non ti consiglierei almeno non uscire per il momento no, più che altro vedrei sempre ecco l'occhio però aspettiamo perchè non voglio subire punizioni uh, 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 mi dispiace uh, cazzo, ci mancava poco che... hai posto in giro che giova subì la nostra... bellissima punizione berno anche infatti qua ancora sta brutta vabbè, tocca sto coso perché è bello cioè, quando prendete quattro in una pagine la vostra madre mi segue quando ci abbatte voi cercate di inascondervi ecco, questo invece magari sa che ha preso un brutto voto e vi insegui con la testa ma bellissima scuola a Porta Scortuna alta 30 metri ok, allora alta 50 metri precisiamolo eh, la madò eh, eh bisogna essere corretti nell'informazione però c'è la testa che fluttua a caso cioè, non l'ho mai capito sta storia ma vediamoli mica hanno la testa cioè, mica li viene tagliata la testa, sono già comunque sei stato un gioco io aspetto il momento giusto per scappare mh, sì, guarda che sto in modalità normale quindi se sbaglio ci sono cazzo cioè, nel senso dai se sbaglio c'è, sono una pippa comunque puoi mai farti una bella dormita eh, magari... si, vuoi andare una bella dormita no? un boss apri la tenda ok perfetto ma no, vediamoci la TV voglio vedere il grigio... ah, bellissimo questo è il canale preferito cambiamo canale, non si può beh, non si può abbiamo cambiato ciò canale vedi con i film guardate con i film guardate con i film mamma mia eh, se se ne vuole andare grazie che non voglio perdere le punizioni grazie ma tu hai preso 2 ma tu hai preso 2 come fai a scappare dalla mamma? eh, eh quella della mamma è ingrazzata no, ho preso 3 ho preso 3 ok, ora ti consiglierei di vedere dove si trova se sotto sopra quindi a seconda vai sopra o sotto mi dispiace devi salire sopra vai sotto sotto volevo dire salire sotto è un po' strano raga devi salire sotto ma fai leggere guarda io rimerei qua per il momento non mi faccio un dormitino ho preso 4 che vediamo se dove si trova ok si trova al pieno di sotto ti consiglierei di correre sopra al più velocemente possibile forse invece non ti dovrei dare consigli che sono quello che è ha fatto la penitenza quindi ragazzi sono piccoli chi farà fare la penitenza eh ovviamente quindi ragazzi nascondiamoci poi io ancora non ho capito perchè si illumina pure sulla ma vado vado la cosa intelligente me la sono scordata perfetto benissimo allora possiamo vedere altro chiudere la candela che una cosa che chiusa la candela vuoi dire vediamo se rimane accesa o se si faccia riuscire e vediamo se ciò che vi chiedi sei fermo due secoli due secoli se poi hanno fatto qualcosa satanico bu ah non ce la sei mi dispiace non puoi eh non posso non posso meglio che non batto la madre non è ancora arrivata no la madre non è ancora arrivata no però io guarda preferirei rimanere qua dentro dai sei al 5 quando prenderai 6 quando prenderai 6 eh ah no magari quando hai preso il 5 ah non è ma eh non mi spiace hai preso hai preso 4 ma c'è 4 5 no non ti preoccupare non ti preoccupare solo il fulmine non dispaventare il fulmine quello c'è per forza ma lo so c'è una cosa che ci ha aggiunto già dai le vecchie ma ci stiamo di cazzo corri 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 non posso correre sii 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 sto no mettetelo dentro immagini ti immagini che eri una persona vecchia e entrava pure dentro no 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 guarda facciamo le corna perchè non è possibile che entrava perchè non potevi sfuggire bastarda non ti consiglio di uscire adesso penso che l'hai presto ma allora benissimo siamo ah nella stanza della musica mettila musica tipo noi non la sentiremmo però voi si oh la seghetta perfetto per entrare in quella parte poi sei alla fine ti trasporto semplicemente al piano di sotto ma che ne sai puoi anche trasportarti nel piano di centro allora la password se non sbaglio era 1 1 1 ma poi la password dove la devi mettere la password questo è bello non ho ancora scoperto dove c'è ah no è una cassaforte lo so io dove la cassaforte sembra piena di so però non ti so dire perchè hanno cambiato un po' la versione ah si comunque guarda non so se sai la funzione della mappa lo so la funzione della mappa che poi mi chiedo come fa a disegnare mentre corre mi seguitelo la legge della fisica quantistica quantistica si si può uscire? no ma mamma non c'è c'era un quadro però non so cosa fa non fa niente ok vai via vai via ma io entri qua dentro no perfetto e sei andato di nuovo anche nei piani sotto però non ti consiglio di andare a dire perché mondo dobbiamo capire se è salivo scientifico quindi allora riguardo magari forse è meglio che riguardi ok sotto perfetto ok quindi posso girare un po' qua ah se la stampanda ti da un occhio lo sai invece non so ecco 1 1 1 1 davvero questa è la password ah il telefono clicca il telefono non mi ricordo se facevo non mi ricordo se facevo una cosa no il corpo perchè lo faccio qua? dovevi giocare alle vecchie ossia non c'è lì che comparia proprio in quel momento nel bagno c'è un sacchetto vabbè corri 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 e va fa cosa quella era la cassa volta comunque si una chiave una chiave per qualcosa due una chiave per qualcosa si è peggiorato due manca due sacchetti soltanto abbiamo esplorato tutta la casa aspetta no 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 c'è ancora la parte di sotto da esplorare ancora no 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 sto dicendo perchè perchè ah no è entrato nella questa è la prima quale se vuoi che cosa io ti do vai nella stanza della dove c'è la segare dove si andrà a segare non pensare male giusto raga non pensate male eh ma amore chissà ricordi dove no adesso no dove? la candela eh ma io dove sono qua quindi devo fare praticamente però ci sono ancora un po' di cose qua tipo che cosa c'è non c'è niente mi ricordo o c'è qualche stanza ecco boh mi ricordo ti consiglio di andare la segare vediamo se ti trasportare sotto o sotto allora non ti vorresti consigliare anche perchè ah giusto la penitenza allora non fare niente rimani fermo allora qua mi dice che ci sono tre porti uno due tre la terza dov'è? la terza è la terza è perchè qua siamo nella stanza non avrei mai visto una cosa qua se non sbaglio no non c'è un cazzo hanno cacciato la che cosa? c'è una cassina forte è un piccolo una piccola piccola una cassina forte cassina forte dove hai capito? ecco perfetto vai a segare non pensate male perfetto e qua dovresti trovare uno o due sacchette per se trovarlo dai ma manco mezzo eh mo io non so dove eh dovremmo dovremmo e non è andata più veloce è proprio nella stanza centrale e sei comparsa nella stanza centrale che bello eh ma io è bello che non posso più vedere dov'è ah che brutto allora forse era meglio dai con la penitenza dai dai un po' di penitenza dai no ragazzi non ne voglio penitenza ora vi frego io ora vi frego io guardate come dovrebbe fare come? apprendo la porta vedere se c'è poi magari non c'è poi c'è però non c'è però c'è non abbia paura sia per un gioco immagino lo uccide no che cazzo mai che mai che mi uscire ok e fino a qua dicevo che va bene ma aspettiamo un minuto ma scusami ma la chiave che cazzo se ve la chiave ma non è che posso uscire adesso un cancello aruginito che se ne va bene dopo ci sono gli sacchetti giù esatto ci sono un bel po' però non mi sembra guardi eh hai cotto le scato questo eh ora non spero ora non so ah c'abbè il dubbio se sopra sotto perchè se sopra sotto però lo prendi subito nel quadrato sembra culetto in the culet è bello che lui ha preso è bello che bello il magico qua sembra avanti o diritto o destro è lo stesso anche qua c'è una stanza no lo sai che è il culo sai perché qua dentro ci dovrebbe essere sia un occhio eccolo è un sacchetto un sacchetto ti manda uno o penitenza o uno o penitenza mi dispiace non lo senti hai preso uno hai preso uno lo hai ho preso uno veloce ok ce l'hai fatto cazzo di staccato ora una cosa vattene dentro la camera veloce adesso immediato o guarda o uguale che mi sto dando lui consiglio è bello che ha detto facciamo la prima regione ucciditi dai dai questo dov'è dire lo sto facendo per te o te lo sto facendo te ma tu è solo per questa volta la prossima te lo faccio perdere appunto io ho dovuto fare così e dopo andare di là ok ho capito perchè a scarpa vicino controllo allora controlliamo l'occhio dai guarda se c'è grande ci vede ecco il salto che bello come che salmo non si sa aspettiamo un altro posto un po' giusto per controllare e si è fatto di nuovo segnare la croce entro la mamma ecco ma basta ma cosa per qua ancora qui fa che sa che si è qua sai che manca lontano che devi aprire quella donna da porta per in modo che lei perde ma io la piove con gli occhi vado è ciecato è cieca non posso manco uscire perchè qua nei paraggi vado io te e non tentare la sorta non tentare la sorta ok guarda meno male apri la porta prima porta prima porta no 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 apri la porta due secondi io fai lo scherzo io mi metto qua non guardo faccio al muro faccio il nascondino gioca nascondino 1 2 3 ok basta poi giochiamo a 1 2 3 1 2 3 stella 1 2 3 stella vogliamo rendere la sfida più difficile no già è difficile di svolgere devi entrare semplicemente nel cancello che nel cancello che non ci sembra che poi non ci sono non so nemmeno dove io so dove però non me lo dici facciamo che lo rendiamo più difficile la sfida se non è troppo facile che mo vinci o no che ne pensi non so dove non so dove eh lo scopri mi dispiace so così scappa 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 e invece no apri la porta solo 2 secondi vai cu 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 guarda mo torni indietro e vai 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 sennò è sempre qua che fanno indietro esatto capi nel prossimo momento vi faccio fare tutte 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 le stanze seppere ragazzi ci lasciamo qui anzi no via un po' ci lasciamo col rischio col rischio cazzo penitenza penitenzia penitenza E' sacato pure il vino Raga Ma che penitenza Penitenza Ma proprio in bocca mi doveva saltare sto bastardo Ma proprio in bocca Ma proprio in bocca Te l'ha messo in bocca lo so Ma l'ha proprio messo in bocca Raga ci vediamo alla penitenza Bella raga siamo Si non mi interessa Non mi interessa negliare Ma la fai Lui ha preso zero Lui ha preso zero mi dispiace ti sei fatto Che parere alla mamma Raga siamo alla penitenza Siccome sei all'inizio Ma veramente Siccome sei all'inizio Facciamo una semplice semplice Ma più in là faremo una bella complessa No togliti gli occhiali Togliti gli occhiali E dagli a lui Il signor Rere Avvicinati alla fontana Che parlo Cioè davanti a 300 persone No mettiti questo punto Questo qua Il bello proprio all'ultimo Proprio all'ultimo All'ultimo si ha perso Proprio all'ultimo Così Prego signore Allora Devi stare Per un minuto In faccia Cioè davanti allo Scorsino qua Si Per un minuto Vai a soffocare qua Si un minuto Non ho detto due minuti Un minuto 30 secondi Vabbè 30 secondi solo perché All'inizio però eh Siamo morendo di freddo quindi sbrighiamoci Ok Chi ti è nel condo di voi due testi di due Eh c'è la telecamera che dice il mondo Niente il problema è risolto Dando vediamo lui la sua La mia povera faccia che fra poco deve essere bagnata Bellissimo Allora sei pronto? Tu non parla pronto Sei pronto adesso Go Tu con le secondi Ma veramente Ma no 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 Aspettate Ma una cosa più semplice Cioè può mangiarmi un attimo gli occhi Oh Guarda che semplicissima sta cosa eh Ma cazzo Davanti sto spuzionando cazzo Non iniziare Non iniziare 30 secondi davanti sto spuzionando cazzo Allora 3 2 1 go Go cazzo Per bene In faccia per bene Tutti in faccia Tutti in faccia Vedi con i secondi si ha No 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 E no giù mi sta andando Non mi raccomandiamo cazzo Non mi raccomandiamo cazzo Continua Quanto tempo eh? Quando manca? 4 3 2 2 2 2 No deve stare a 3 5 secondi Mi dispiace 5 secondi 5 secondi 5 secondi 5 secondi Non c'è bisogno che condi Dai 5 4 3 2 2 1 0 Meno 1 Vado 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 C'è la tutta la faccia congelata Vado 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 Siamo soddisfatti oggi Siamo soddisfatti No no La prossima volta Facciamo fare le modalità incubo Al prossimo ti facciamo fare le modalità incubo Non mi dispiace E' più veloce cazzo Appunto Così Così è sicuro Che perdo Bravo Bravo Che cosa vuoi dire? Che cazzo Cioè l'unica cosa che posso dire è di Se non vi siete ancora iscritti iscrivetevi La mia propria faccia Vabbè non va niente Mettete mi piace se vi è piaciuto questo video E cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati sui prossimi video E sui prossimi challenge che questo tizio penserà di fare Esatto Ci vediamo nel prossimo video O pure lui E da me è tutto Bella raga